Dal 5 al 9 febbraio 2024, il dating show più amato d'Italia, Uomini e Donne, torna sul piccolo schermo con un nuovo carico di emozioni, colpi di scena e decisioni che terranno incollati gli spettatori alle loro poltrone. Maria De Filippi, padrona di casa di questo intrico di cuori e passioni, ci regala uno sguardo esclusivo dietro le quinte. Tra le anticipazioni più interessanti della prossima settimana, troviamo un'immersione nelle vicende sentimentali di Ida Platano, mentre Barbara si sentirà costretta a rifiutare definitivamente Orfeo. Nella prossima settimana, il trono classico CI immergerà nelle vicende sentimentali di Ida Platano, sempre al centro di un vortice di emozioni. La tronista dovrà affrontare nuovi dubbi riguardo al corteggiatore Mario. Una segnalazione proveniente da un'altra ragazza metterà a dura prova la pazienza di Ida, che visibilmente stanca della situazione, esprimerà apertamente la sua delusione. Mario, dal canto suo, rifiuterà di concedere un'esterna con la tronista, aggiungendo ulteriore tensione al già intricato rapporto. In seguito, il pubblico avrà l'opportunità di assistere alle due esterne di Ida con Sergio e Pierpaolo, dove il destino dell'amore sarà sospeso tra speranze e incertezze. Il trono over, invece, ci immergerà nelle dinamiche romantiche di Barbara, una dama pronta a compiere una decisione che cambierà il corso della sua avventura nel programma. Dopo un'esterna disastrosa, Barbara metterà fine alla frequentazione con Orfeo, chiudendo un capitolo e aprendo le porte a nuove opportunità. Nel corso delle puntate, due nuove donne entreranno in scena desiderose di conoscere meglio il cavaliere Orfeo. Tuttavia, le cose non prenderanno la direzione sperata, poiché Orfeo sceglierà di non proseguire la conoscenza con nessuna delle due, mantenendo alta la suspense e lasciando spazio a interrogativi sul suo futuro sentimentale. Preparatevi a un viaggio emozionante, attraverso il nostro canale Super Gossip. Gli alti e bassi dell'amore, dove ogni episodio è una tappa fondamentale nella ricerca della felicità e della comprensione. Maria De Filippi è pronta a guidarci in questo intricato labirinto di passioni, con il suo stile unico e la capacità di trasformare ogni piccolo momento in un'esperienza indimenticabile. Ciao da Super Gossip, se ti è piaciuto il video, metti un like, commenta, condividi, grazie.